Tutto il collegio è solo su RaiPlay. Scarica l'app. E come in una partita di calcio, la professoressa approfitta dell'intervallo per parlare di persona col preside. Rientrato da poco in collegio, chissà come andrà il secondo tempo. E vediamo l'ultimo. No! C'è stato un piccolo intoppo, professore. E cioè? Cioè? E che è... che è successo? Nessuno ha fatto un cazzo. Questo è il fatto che mi dà fastidio. Io sono stato qui ad osservarvi. Quello che ho visto sono tante individualità che non sono capaci di lavorare in gruppo. Quindi quello è il risultato del vostro lavoro. Ed è un risultato negativo. Signorina Federico, ha qualcosa da dire? Che lei ha completamente ragione, non ho intenzione di giustificarmi in nessun modo. E se me lo permette, o se lo permette anche i miei compagni, sarebbe ideale se potessimo portare dei fogli in camera per rifare il lavoro da capo. No, ma siamo a quest'anno che non capisci nulla. Io le permetto di recuperare il lavoro, ma mi raccomando, in gruppo. Sofì, credici che ti do la mano. Veramente una figuraccia della peggior specie proprio. Io una cosa del genere non la tollero. Abbiamo tutti quei percentuali di colpa, quindi non capisco il perché lei abbia fatto la vittima. Perlomeno pulire la classe mi ha aiutata. Non mi sento inutile. Ma che avete fatto? Che è questo, capisco? Mi sono provato a pulire il più possibile. Io ho capito il più possibile, regà. Qua bisogna chiamare a papà a ditta di pulizia. Mi dispiace. Che vergogna proprio. Ma che è questo? Grazie a tutti.